C'è anche il nuovo arrivato, il portiere Alessandro Iacobucci nella lista dei convocati per la sfida di stasera a Cesena nella quale il Pescara si gioca la possibilità di restare agganciata al carro della Reggiana che continua a vincere ed è volata per il momento a 11 punti dai biancazzurri. Anche se il titolare sarà il giovane Sorrentino che sostituisce tra i pali l'infortunato di Gennaro. Serve una vittoria alla squadra di Auteri per riportare a distanze abbordabile il distacco dalla capolista che, bene ricordarlo, occupa al momento l'unico posto utile per la promozione diretta in B. Si comincia alle 21 in una specie di crocevia nel quale il Pescara dovrà capire la strada da percorrere da qui al termine. Test probante contro un'avversaria diretta che è a 5 punti davanti ai biancazzurri. Quasi fatta la formazione con Galano titolare a destra in attacco, Ferrari al centro e De Marchi a sinistra anche se Durzi ha superato il Covid e sta bene. A centrocampo nel 4-3-3 di Auteri, Pompetti in regia, Enrizzo e Memusciai, Mezzali mentre in difesa ballottaggio tra il giovane Veroli e Ingrosso con Drudi al centro e Cancellotti e Zita esterni. Si gioca su un sintetico di ultima generazione che con il campo pesante può essere un'insidia in più per i pescaresi. Anche i romagnoli, dopo il pari interno con la Pistoiese, puntano solo alla vittoria per continuare a tallonare la capolista, arbitra di Cariano di Ariano Irpino. Dobbiamo fare punti, punti che sono importanti, non è una partita decisiva perché però è un crocevia importante, ci dirà la strada che dobbiamo prendere e conseguenza soprattutto di quelle due partite sono il nostro percorso che continua a dire che è un percorso destinato a crescere, di questo ne sono certo però nel frattempo c'è questa partita contro una squadra che ha dimostrato di avere valore importante ma noi con tutto il rispetto non ci sentiamo inferiori a loro quindi sappiamo che dobbiamo fare risultati il risultato passa dalla prestazione che faremo e faremo una prestazione importante, sono convinto.